mi hanno parlato i passanti come il sergente mi aveva parlato nella foresta ecco mi hanno detto loro non si può sbagliare è giusto in faccia a lei e ho visto in effetti le grandi costruzioni massicce e vetrate delle specie di acchiappamosche senza fine in cui si scorgevano degli uomini che si agitavano ma agitavano appena come se si dibattessero solo debolmente contro non so che ed impossibile era quello ford e poi tutto intorno e sopra fino al cielo un rumore opprimente e multiplo e sordo di torrenti di macchinari duro per l'ostinazione dei meccanismi a girare rotolare gemere sempre sul punto di rompersi e senza rompersi mai e qui dunque mi son detto è mica eccitante era anche peggio di tutto il resto mi sono accostato più vicino fino alla porta dove c'era scritto su una lavagna che cercavano gente non ero il solo ad aspettare uno di quelli che pazientavano lama ha informato che lui era lì da due giorni e sempre allo stesso posto era venuto dalla jugoslavia sta pecora per farsi reclutare un altro poveraccio mi ha rivolto la parola veniva a ruscare asseriva lui solo per divertirsi un maniaco un bleffatore in quella folla quasi nessuno parlava inglese si spiavano gli uni gli altri come bestie sfiduciate battute spesso dalla loro massa saliva un odore di mutande pisciate come all'ospedale quando ti parlavano evitavi la loro bocca perché il dentro dei poveri puzza già di morte pioveva sulla nostra piccola folla le file stavano compresse sotto le grondaie sono molto comprimibili quelli che cercano un lavoro quel che c'era di buono da ford mi ha spiegato un vecchio russo in vena di confidenze è che ti ingaggiano non importa chi e non importa cosa stai solo attento ha aggiunto lui perché mi sapessi regolare non bisogna fare il bullo qui perché se fai il bullo ti sbattono fuori in men che non si dica e ti sostituiscono alla veloce con uno di quei congegni meccanici che ci sono sempre pronti e allora ti saluto che ci torni parlava bene il parigino russo perché aveva fatto il taxista per anni e l'avevano cacciato dopo un affare di cocaina e poi fin dai conti si era giocato la vettura ai dadi con un cliente a biarris e aveva perso era vero quel che mi spiegava che prendevano tutti da ford non aveva mentito io diffidavo lo stesso perché i poveracci hanno il delirio facile c'è un momento della miseria in cui lo spirito non sta già più tutto il tempo con il corpo ci si trova davvero troppo male è già quasi un'anima che vi parla non è mica responsabile un'anima nudi ci hanno messo per cominciare beninteso la visita la passavi in una specie di laboratorio sfilavamo lentamente sarei proprio conciato male ha constatato l'infermiere alla prima occhiata ma fa niente e io che avevo avuto paura che mi rifiutassero al rusco per le febbri africane se solo se ne accorgevano casomai mi tastassero il fegato ma al contrario sembravano aver l'aria contenta di trovare dei loffi e degli infermi nella nostra mandata per quello che farai qui non ha importanza com'è che sei conciato ma rassicurato il medico esaminatore su due piedi tanto meglio gli ho risposto io ma sa signore io sono istruito e ho cominciato anche a studiare medicina una volta di colpa ho guardato di brutto ho capito che avevo fatto un'altra gaff e a mio danno non ti serviranno a niente qui i tuoi studi ragazzo mica sei venuto qui per pensare ma per fare i gesti che ti ordineranno di eseguire non abbiamo bisogno di creativi nella nostra fabbrica è di scimpanze che abbiamo bisogno ancora un consiglio non parlare mai più della tua intelligenza penseremo noi per te amico dentro per detto aveva ragione di avvertirmi era meglio sapere come regolarsi sulle abitudini della casa di fesserie ne avevo già al mio attivo per dieci anni almeno ci tenevo ormai a passare per un pacioccone una volta rivestiti fumo divisi in file strascicate per gruppi esitanti di rinforzo verso i luoghi da cui ci arrivava l'immane fracasso delle macchine tremava tutto nell'immenso edificio e tu anche dalle orecchie ai piedi posseduto dal tremore veniva dai vetri e dal pavimento e dalla ferraglia a scossoni vibrato dall'alto in basso diventavi macchina per forza anche tu e con tutta la tua carne tremolante in quel rumore di rabbia in mane che ti prendeva la testa dentro e fuori e più in basso ti agitava le budella e risaliva gli occhi a colpetti precipitosi senza fine inarrestabili via via che si andava avanti perdevamo compagni gli facevamo un sorriso a quelli lì lasciandoli come se tutto quello che capitava fosse una bellezza non si poteva più né parlare né sentirsi ne restavano ogni volta tre o quattro intorno a una macchina comunque si resiste si fa fatica a disgustarsi della sostanza di cui sei fatto vorresti proprio fermare tutto quanto per pensarci su e sentire dentro il cuore che ti batte con facilità ma non si può più non può più finire è una catastrofe quella scatola d'acciaio e noi ci giriamo dentro con le macchine e con la terra tutti insieme e le mille rotelle e le presse che non cadono mai allo stesso tempo con dei rumori che si schiazzano gli uni contro gli altri certi così violenti da scatenare intorno come delle specie di silenzi che ti fanno un po di bene il vagoncino traballante con contorno di chincaglieria s'affanna a passare in mezzo agli attrezzi scansarsi fare un salto perché possa fare un altro zompo il piccolo isterico e hop va a saltellare più lontano quel matto incasinato in mezzo a cinghie e volani a portare agli uomini la loro dose di coazione gli operai ricurvi preoccupate di fare tutto il piacere che possono alle macchine ti demoralizzano a passargli i bulloni al calibro e ancora bulloni invece di finirla una volta per tutte con quell'odore d'olio quel vapore che brucia i timpani e l'interno delle orecchie attraverso la gola non è la vergogna che gli fa abbassare la testa ci si arrende al rumore come ci si arrende alla guerra ci si lascia andare alle macchine con le tre idee che restano a vacillare in cima alla testa dietro la fronte è finita dappertutto quel che l'orecchio vede la mano tocca è duro adesso e tutto quello che uno riesce a ricordare ancora un po sa indurito anche quello come il ferro e non ha più gusto quando lo pensi si diventa maledettamente vecchi in un colpo solo bisogna abolire la vita di fuori farne acciaio anche di quella un qualcosa di utile non la si amava abbastanza com'era è per questo bisogna dunque farne un oggetto un solido è la regola cercai di parlargli all'orecchio al caporeparto aggrugnito come un maiale in risposta e soltanto a gesti ma mostrato paziente la semplicissima manovra che dovevo eseguire ormai per sempre i miei minuti le mie ore il resto del mio tempo come questi qui se ne sarebbero andati a furia di passare dei piccoli perni al cieco di fianco che li calibrava lui da anni i perni sempre gli stessi io sta cosa l'ho fatta subito malissimo non mi sgridarono affatto soltanto dopo tre giorni di quel travaglio iniziale fui trasferito già bruciato a trascinare una carriola piena di rondelle quella che faceva cabotaggio da una macchina all'altra là ne lasciavo tre qui dodici laggiù cinque soltanto nessuno mi parlava esistevi solo grazie a una specie di esitazione tra l'inebetimento e il delirio importava soltanto la continuità fracassona di mille e mille strumenti che comandavano gli uomini quando alle sei tutto si ferma ti porti il rumore nella testa ne avevo ancora per la notte intera di rumore e odore d'olio proprio come se mi avessero messo un naso nuovo un cervello nuovo per sempre allora a forza di rinunciare a poco a poco sono diventato quasi un altro un nuovo ferdinand dopo qualche settimana comunque mi tornò la voglia di rivedere la gente di fuori non quelli dell'officina di sicuro erano solo degli ecchi e degli odori di macchine come me carni vibrate all'infinito i miei compagni era un corpo vero che volevo toccare un corpo rosa di vera vita silenziosa e soffice non conoscevo nessuno in quella città e soprattutto nessuna donna a fatica ho finito per rimediare l'indirizzo approssimativo di una casa di un flamba clandestino nel quartiere nord della città andai a passeggiare da quelle parti per qualche sera di seguito dopo la fabbrica in avanscoperta quella strada assomigliava a un'altra ma forse meglio tenuta di quella in cui abitavo avevo trovato il villino dove quello capitava circondato da giardini per entrare bisognava fare in fretta affinché il pulotto che montava di guardia vicino alla porta potesse aver visto niente fu il primo posto d'america in cui fui ricevuto senza brutalità gentilmente anche per i miei 5 dollari e belle ragazze in carne che scoppiavano di salute e di forza aggraziata quasi belle in fin dei conti come quelle del low kelvin e poi queste qui almeno le potevi toccare liberamente non ho potuto fare a meno di diventare un abituè del locale tutta la mia paga finiva lì avevo bisogno venuta la sera delle promiscuità erotiche di quelle splendide ospiti per rifarmi un'anima il cinema non mi bastava più antidoto penigno senza effetto reale contro l'atrocità materiale della fabbrica bisognava ricorrere per durare ancora ai grandi tonici sboccati ai purganti che rivitalizzano mi chiedevano un canone modesto in quella casa degli accomodamenti amichevoli perché li avevo portato di francia a quelle dame dei piccoli trucchi e degli aggeggi soltanto il sabato sera basta trucchi il business girava al massimo e lasciavo il campo alle squadre di baseball in libera uscita vigorose che era una meraviglia forzuti ai quali la felicità sembrava riuscire semplice come la respirazione mentre le squadre se la godevano tutto ringalluzzito stavo a scrivere raccontini in cucina per mio uso e consumo l'entusiasmo di quegli sportivi per le creature del luogo non raggiungeva certo il fervore un po impotente del mio quegli atleti soddisfatti della loro forza erano un po snob in fatto di perfezione fisica la bellezza è come l'alcol o il comfort si si abitua non ci si fa più attenzione venivano soprattutto loro al flamba per stare allegri spesso alla fine si menavano come degli ossessi allora la polizia arrivava in tromba e portava via il tutto su delle camionette grazie 5 Nckets 3 4